Ecco la scada tecnica di Niccolò Fagioli, trequartista della Juventus primavera classe 2001. Nato il 12 febbraio, Niccolò Fagioli è un nome sulla bocca di molti già da diverso tempo. Nella 2015 la Juventus lo prende dalla Cremonese e già nella stagione in cui milita con l'Under 17, con cui segna 13 reti in 25 partite, inizia ad accumulare presenze nella primavera, ben 7, nella 2017-2018. Fagioli continua a crescere e nel 2018-2019 gioca stabilmente con la primavera bianconera, mettendo a segno 6 reti e 9 assist in 27 gare totali, iniziando a giocare in minuti importanti anche con la formazione Under 23 bianconera. Le buone prestazioni gli consentono inoltre di essere un punto fermo dei nazionali giovanili, prima con l'Under 17, dove segna 3 gol in 14 gare, sfiorando l'europeo di categoria, e poi con l'Under 19, dove scende nel campo in 21 occasioni realizzando due reti. Nella 2019-2020 si divide tra primavera e Under 23, impegnata in Serie C. In primavera è autore di una discreta stagione con 5 gol e 5 assist in 21 partite, a cui si aggiungono anche le 8 partite giocate con l'Under 23, dove però mette a frutto una solo assist. Dallo punto di vista tecnico-tattico, Niccolò fa gioia il classico trequartista, bravo a muoversi tra le linee per cercare spazi e linee di passaggio interessanti per i compagni. Dotato di un'ottima tecnica individuale, nel corso della sua evoluzione è riuscito a riciclarsi bene anche come in interno di centrocampo, dove è stato a volte implicato in nazionale e dove ha trovato spazio anche nella formazione Under 23 di Pecchia. Tecnicamente impeccabile, ha un gran tiro, deve migliorare solo fisicamente e dal punto di vista tattico, a quel punto potrà iniziare a giocare sulle sue carte dal protagonista anche con i grandi.